Il finale spettacolare è quella dello Young Boys che chiude un'edizione altrettanto bella e spumeggiante giocata sul campo centrale del centro sportivo Agora Fitness di Latina la partita che stiamo vedendo in maglia azzurra c'è la formazione di numero 0 pizzeria Venere Vulcano d'altra parte FC Giorgione che dopo aver subito due contropiedi va in gol con il solito Alessio Aquilani una volata tutta da sinistra mette a sede le lampa cresce di sinistro mette in fondo al sacco il vantaggio di FC Giorgione ancora una volta con la sua punta di diamante l'eroe della semifinale Alessio Aquilani che fa gol ma siamo già dall'altra parte con Edoardo Onorato due volte con il sinistro la prima trova Chinchio la seconda trova invece il legno alla sinistra del portierone di FC Giorgione ancora una volta Cucchi sotto la porta di Chinchio non riesce a deviare questa bel fendente tentato da Petitti adesso siamo nel secondo tempo con Merola che trova lampa cresce bravo a distendersi alla sua destra sale di tono FC Giorgione vuole chiudere la partita Calvani trova un super Valerio per Nasilici ancora una volta la coppia d'oro di FC Giorgione porta in avanti suoi 2-0 sembra finita anche perché numero 0 pizzeria Venere e Vulcano senta a trovare campo insiste FC Giorgione che vuole chiudere lampa cresce però nega la gioia del gol appena Silici per due volte prima su questa uscita poi su questo calcio di punizione potentissimo ma centrale la reazione nel finale numero 0 pizzeria Venere e Vulcano la punizione di Cucchi trova un sempre attento Chinchio poi Calvani può chiudere la partita tocco sotto delizioso ma non trova lo specchio della porta quindi ne vuole approfittare pizzeria Venere e Vulcano numero 0 Chinchio due volte si oppone prima a Cucchi poi a Picciotto deviando questa palla di poco a fuori Cucchi ancora una volta trova Chinchio che con l'aiuto del pallo devia in calcio d'angolo e poi c'è il gol di Petitti che riapre per un attimo questa finalissima che si accende soltanto nei minuti finali con numero 0 pizzeria Venere e Vulcano che tenterà gli assalti finali ma naturalmente è pronta a colpire in contropiede FC Giorgione che si chiude a Riccio per ripartire in contropiede che spreca Merola ma finisce qui palla sull'estero della rete e gioia, esultanza per tutti i ragazzi di FC Giorgione che trionfano in questa bella, bellissima edizione dello Young Boys tanti ragazzi, giovani promesse che rivedremo sicuramente sul campo dell'Agora Fitness nella prossima stagione nel prossimo campionato Young Boys organizzato dalla Broker Sport con Yuri Bacoli ed Enrico Rosati in prima fila una FC Giorgione che vince grazie a Chinchio, Pagano, De Boni, Scalvani, Merola, Barbato, Pennasilici, Saccaro e Aquilani e l'apporto imprescindibile di tutta la famiglia Resini Grazie a tutti i nostri spדי Grazie a tutti